ciao a tutti signori io sono lorenzo e questo mio canale esperton e benvenuti bene come avete visto dal titolo oggi andiamo a vedere come togliere questo fastidioso oppure come attivarlo dipende dai punti di vista perché magari certe persone hanno bisogno di sentire questi numeri qua allora io adesso ho un amico amplivox ma più o meno il menu è uguale per tutti quindi cosa facciamo andiamo qui c'è scritto menu vado premere menu vado su impostazioni profili vedete qui c'è scritto profili gli do ok profili generale adesso io faccio questo profilo qua generale per farvi vedere e capire opzioni che c'è scritto qui corrisponde a questo tasto qua faccio opzioni personalizza come vedete c'è scritto personalizza e gli do l'ok e vado giù fino a trovare tasti vedete qui c'è scritto tasti allora adesso cosa faccio faccio opzioni faccio cambia quindi gli do l'ok sempre con questo cambia e da qui vado a mettere o silenzioso se non volete proprio sentire nulla click il suono o la voce che è quella che sentivamo adesso quindi se voglio andare mentre silenzioso metto silenzioso click noi mettiamo click ok e non è finita qua è questo l'ultimo passaggio da fare correttamente su quando avete fatto queste opzioni qua dovete andare a scherciare sempre il tasto opzioni salva vedete che qua c'è scritto 2 salva e gli date salva e il gioco è fatto quindi se io adesso vado a premere i tasti non c'è più quella voce lì che continua a parlarne sono azioni molto semplici da fare logico che bisogna sapere dove andare a vedere e per questo vi ho fatto questo video qua e se questo video è stato utile vi è servito mettete un bel like mi piace lì che vedete sotto premete mi piace iscrivetevi al canale per altre novità perché ne sto facendo sui brondi ho fatto quasi tutto dall'sos eccetera e se avete invece dei video che mi chiedete volete che lo faccio scrivetemelo sotto nei commenti lorenzo avrei bisogno di questo video qui io ve lo realizzo se riesco bene signori grazie a tutti e arrivederci